Over the top. Per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza, Joe Biden, che da subito ha sostenuto Israele in maniera incondizionata, ha ammesso che la risposta di Benjamin Netanyahu è stata esagerata. In una conferenza stampa convocata all'ultimo minuto dalla Casa Bianca, il presidente americano, visibilmente irritato dai commenti sulla stampa, seguiti alla pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Robert Hoor sulla gestione delle carte classificate quando era senatore numero due di Barack Obama, ha risposto alle domande dei giornalisti, non solo sul caso in questione, ma anche sulla situazione in Medio Oriente. La risposta di Israele a Gaza è stata esagerata, ha dichiarato il presidente americano, rivendicando di aver fatto pressioni sul governo israeliano per consentire l'ingresso di aiuti umanitari. Ho convinto Netanyahu, ho fatto forti pressioni, ha detto. Ci sono moltissime persone innocenti che muoiono di fame, donne e bambini innocenti che hanno disperato bisogno di aiuto. Ho parlato al telefono con i sauditi per portare a Gaza quanti più aiuti possibili. Biden ha anche sottolineato che sta premendo per arrivare a un accordo sul cessato del fuoco e sugli ostaggi. Ci sto lavorando senza sosta. Quanto al rapporto del procuratore speciale Urra sulla gestione delle carte classificate quando era senatore vicepresidente, Biden si è detto soddisfatto di essere stato completamente assolto da ogni crimine e ha voluto rimarcare la differenza fra sé e Donald Trump. Tuttavia, il comandere in chief non ha gradito le note del procuratore sui suoi presunti problemi di memoria. In particolare, il riferimento al fatto che non ricorderebbe la data della morte del figlio, stroncato da un cancro a soli 45 anni. Come ha osato, ha dichiarato Biden, visibilmente scosso.